Allora, buonasera a tutti. Ci ho pensato un po' prima di fare questo video perché sto rischiando comunque, visto che è un argomento molto dibattuto, dove oggi purtroppo non esiste più neanche la libertà di parola, ma neanche la libertà di espressione sul web. Perché? Di cosa sto parlando? Sto parlando del famoso Green Pass. Vorrei dire la mia e che cosa ne penso. Allora, cercherò di usare termini non aggressivi, anche se visto il periodo comunque non è semplice non essere aggressivi, e cercherò di parlare in modo chiaro. Vi avviso che potrei non essere breve. Io penso che stiamo vivendo un'epoca veramente assurda, dove siamo pieni di odio, di rabbia, verso anche il prossimo. Siamo pieni di pregiudizi. Stiamo andando letteralmente alla deriva. Ragazzi, io ho ricevuto migliaia di insulti soltanto per aver detto che non sono a favore né del vaccino né ovviamente del famoso Green Pass. Per questo mi sono state dette cose veramente pazzesche, tra cui che mi devono levare il cavalerato, che mi devo vergognare, che faccio schifo, che il presidente Mattarella si dovrebbe vergognare di me, e chi più ne ha più ne metta. E ho perso tanti amici. Tra parentesi, non erano tali, perché chi rimane, rimane per come sei. E non soltanto per quello che dici, o perché hai idee diverse. Detto questo, penso che il Green Pass sia la più grande forma di dittatura di questa epoca. Ora, non dico della storia, perché prima del Green Pass ci sono state altre cose. Vedi il nazismo? E perché è una dittatura? Ma perché te non puoi costringere le persone a vaccinarsi contro la propria volontà. Qui stiamo buttando la Costituzione nel bidone. Letteralmente. Cioè, la stiamo buttando. Non esiste più. Non esiste più. Stiamo vivendo, secondo me, ed è un parere personale, io non mi considero una novax o una terrapiattista, neanche una complottista, ma semplicemente una persona che è nata libera e tale vorrebbe rimanere. Però, purtroppo, non si può, a quanto pare. Penso che costringere le persone a fare qualcosa contro la propria volontà sia veramente una cosa fuori dal normale. Veramente. Ora, addirittura, la novità è che il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori. Ma ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto di dove stiamo arrivando. Allora, perché io mi faccio tante domande? Come persona mi sono fatta delle domande. Non ho le competenze mediche e scientifiche per parlare del vaccino, ok? Però, come persona, mi sono fatta delle domande e mi sono detta Ma scusate, ma tutto questo casino che hanno creato le zone rosse, le zone gialle, prima c'erano quelle, poi c'è stato il lockdown, poi ci chiudevano in casa fino alle 18, tutte queste cose qui, no? Ma io mi chiedo, ma a cosa sono servite? Io mi chiedo, e questo è il primo dubbio che mi assale. Poi, secondo dubbio, perché il Green Pass non è obbligatorio per i parlamentari e neanche per i senatori, ma neanche per andare alla messa? Come mai? Quindi, vuol dire che il Covid predilige alcuni posti e alcuni no. Ho a voi il dubbio. Chi è che mi risponde a questa domanda? Poi, un'altra domanda che mi faccio è Ma allora, se veramente al governo gli interessa debellare il virus, perché non mettere i tamponi salivari, che sono quelli meno invasivi, gratuiti per tutti, invece di farli pagare? Ok. Questo è un altro dubbio che io ho. Quindi, se qualcuno mi risponde a tutti questi dubbi, io accetto le sue risposte e poi valuteremo di conseguenza. Un altro dubbio che ho è Ma perché, se allora avete messo obbligatorio il Green Pass, non avete messo obbligatorio il vaccino, però prendendovi tutte le responsabilità delle relazioni avverse e anche dei morti? Perché guardate che ci sono stati, eh? E ci sono. Non è che uno se le inventa. Allora, se io vado a fare il vaccino in salute, poi, quando ho fatto il vaccino, non mi sento bene, non potete dire che non c'è correlazione. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? È chiaro che c'è correlazione. Non è che è arrivato il fantasma formaggino e mi ha fatto ammalare senza vaccino. Scusatemi, eh. Cioè, io non capisco. Boh, non... Cioè, è facile dire Eh, ma, eh, eh, te fai un vaccino che comunque è come un farmaco e anche i farmaci hanno degli effetti collaterali. Va bene. So d'accordo su questo. Ma se permettete, c'è una bella differenza. Anche perché i farmaci sono stati già sperimentati e questo vaccino, a quanto mi risulta, no. O comunque non è ancora finita la sperimentazione. Ma io non dico niente perché, appunto, non sono un medico, non sono una virologa e non mi chiamo Bassetti. Quindi va bene. Ok. Eh, però un'altra domanda che mi faccio è ma allora, tutta questa storia, appunto, delle mascherine, del lockdown, delle zone gialle, delle zone rosse e compagna bella, ma cosa sono servite? Ma perché avete detto restiamo calmi fino a Natale per poi riabbracciarsi per l'anno nuovo? oppure il contrario? Cioè, avete detto delle cavolate. Io non riesco a capire qual è l'obiettivo finale di questi signori. Me lo volete spiegare? Me lo volete spiegare? E soprattutto che cosa si può fare per ribellarsi a questa dittatura psicologica? Ci stiamo mettendo tutti gli uno contro gli altri. Ho visto una cattiveria che non avevo mai visto e mi preoccupo anche per quei ragazzi che ora andranno a scuola e avranno pregiudizi su chi non si è vaccinato. Quindi cosa succederà? Che verrà fuori una nuova forma di bullismo? Speriamo di no. Però l'andazzo, ragazzo, non è mica tanto bello, insomma. Io sono qui per capire, mi faccio delle domande. Se qualcuno mi può rispondere magari, glielo sono grata, veramente. Detto questo, sono assolutamente contraria al Green Pass. E penso che due domande sia lecito farsele. Poi un'altra domanda che mi è venuta in mente ora. Ma come mai tutta questa libertà? Io appena scrivo del vaccino, del Covid, del Green Pass sui social, vengo immediatamente bloccata o comunque censurata? Ma come mai anche in televisione senza fare nomi? Chi sta parlando di questo viene appunto segato? Ci sarà un perché, no? Allora, evidentemente, c'è qualcosa che non quadra. E ripeto, io non sono nuovax. non esistono nuovax. È un termine che è un'ennesima etichetta come lo è stato disabile, handicappato, frocio, gay e chi più ne ha più ne metta. È un'etichetta che serve per discriminare ancora di più. Poi vorrei invitare i signori del governo a pensare anche a problemi quali le barriere architettoniche perché non è che avete fatto tutto questo granché. Se andiamo a vedere in Italia ancora ci sono barriere architettoniche da tutte le parti. Occuparsi dell'educazione all'integrazione sulla disabilità ma quella vera non quella che fa comodo per avere dei voti. Pensare anche ad altri problemi. ora io vorrei che vi metteste una mano sul cuore e diceste cavolo ma qui bisogna aiutarle queste famiglie perché se non lavorano gente che ha da mantenere figlioli io voglio vedere come fa. E io ragazzi veramente sinceramente non ho più parole boh famiglie che sono divise diamo anche un supporto psicologico a chi sta prendendo male tutta questa situazione quando finirà questa situazione di cacca speriamo presto però io ho paura che finirà quando fa comodo a qualcuno di cui non faccio il nome. Aiutate le famiglie invece di guardare soltanto al vostro mulino cioè rendiamoci un po' conto della situazione che stiamo vivendo ora non penso che mi potete bloccare il video anche perché io non ho mica detto parolacce io non ho offeso nessuno non ho detto niente assolutamente anzi mi sono contenuta ma perché sono una persona educata e sono una persona che cerca di capire se poi qualcuno di esperto veramente mi dirà eh ma guarda questo questo e quest'altro va bene lo ascolto l'importante è che non ci scanniamo fra di noi io penso che è una situazione questa in dove dobbiamo restare uniti dove dobbiamo evitare di buttarci fango gli uni contro gli altri perché se no si va a fare un giochino che non è piacevole e soprattutto non serve a niente purtroppo bisognerà reinventarsi perché io per esempio non ho intenzione di piegarmi a questa cosa a questa appunto questa dittatura sanitaria e psicologica soprattutto però magari trovare delle soluzioni alternative trovare un compromesso si potrebbe anche fare no purtroppo mi sembra che dall'altra parte non ci sia l'intenzione quindi io mi rivolgo ai poteri forti appunto come cittadina chiedendo che il popolo venga aiutato perché questo non è il sistema per aiutare nessuno ora io spero veramente che questo video non sia risultato offensivo ho detto la mia spero che qualcuno non mi metta il bavaio io vi ringrazio vi ringrazio a tutti del vostro sostegno e del vostro affetto vi mando un bacio ragazzi cerchiamo di resistere e di non andare fuori di testa per quanto possibile ciao ciao